L'esodo dei profughi dall'Ucraina, secondo l'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati, sono oltre 4 milioni le persone in fuga dalla guerra, 75 mila quelle arrivate finora in Italia. Fra queste 30 mila sono bambini, cifra che comprende 475 minori non accompagnati, accolti in gran parte da famiglie italiane. Il flusso dei profughi è in rallentamento, ha detto la ministra dell'Interno Lamorgese nel corso dell'audizione al Comitato Parlamentare Scheng. Grazie mille.